Giochi, escursioni guidate e sfilate di cavalli. Sarà questo e tanto altro la 43esima edizione della Sagra della Castagna e dei prodotti del Sottobosco di Acerno, organizzata dalla Proloco. Quanti faranno visita al Paese delle Cento Acque nei giorni 10 ed 11 novembre, oltre a poter visitare la città illuminata a giorno e ammirare i monumenti lungo le strade principali, potranno degustare la castagna in molteplici modi e visitare i castagneti con la possibilità di qualche cavalcata. Ciliegina sulla torta, l'accensione del tradizionale falò in Piazza d'Aste, dove saranno preparati squisiti dolci fatti con le castagne e le calde arroste.